Scoppia l'incendio, Trentenne rimane imprigionato dal fumo che ha invaso l'abitazione. È accaduto nella notte in un appartamento di una palazzina di Viale 8 Marzo a Malo. L'incendio sarebbe divampato in cucina. I vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto, muniti di respiratori, hanno individuato il giovane in camera, portato all'esterno, hanno provveduto a prestare le prime cure sanitarie in attesa dell'arrivo del SUEM. Stabilizzato, il Trentenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Vicenza. Spento invece l'incendio che ha distrutto la cucina.